Un grandissimo applauso a questo protagonista straordinario, alza la maglia al cielo, va a dominare, a vincere Antonio Poltorelli! Antonio sei riuscito a vincere, a conservare la maglia rosa di fronte a avversari oggi validissimi? Sì, è stata una gara durissima, con degli avversari che non sono riusciti a staccarli, poi con degli sbagli che ho fatto al secondo giro mi hanno ripreso, però è andata benissimo! Ma insomma Antonio, a che effetto fa essere il figlio di Massimo Poltorelli? Ci sono grandi aspettative su di te? Sì, avere un papà così è bellissimo, mi alleno lui e spero di continuare così! ...della prima classificata del settore femminile ha dominato dall'inizio alla fine, Allegra Maria Arzupi che si va a presentare solitaria, l'applauso per la vittoria di Allegra! Maria Arzupi dal team cadrettata verso l'iride, vince dunque alla maniera dei grandissimi questa prova! Allegra hai onorato la tua maglia di campionessa italiana, è venuta fuori una gara durissima, una bella vittoria! Eh sì, sono molto contenta, sono partita bene, mi sono riuscita a infilare subito con i maschi, ho preso il mio vantaggio, ho tenuto a duro e ce l'ho fatta a vincere! Com'è stato il percorso oggi? A me piaceva molto, è per le mie caratteristiche, è andata bene, spero di continuare così! Grazie!